Un saluto da dottor Palmas, ti mostro un altro bellissimo caso risolto con il nostro sistema bocca bionica. Questo era un paziente che arrivava al nostro policlinico in questo stadio con una dentatura tutta incapsulata nella parte superiore con denti metallo ceramica finti, fatti a mano tanti anni fa con un'occlusione errata, quasi testa a testa e ceramiche scheggiate. Sotto nella radiografia si evidenziava parodontite, piorrea, quella che un tempo si chiamava piorrea con infezioni multiple. Alcuni denti nella parte superiore era ancora possibile salvarli, erano presenti già degli impianti dentali. Quello che abbiamo fatto è stato salvare alcuni impianti, alcuni denti e ricostruire completamente le arcate andando a mettere nella parte superiore impianti ptericoidei e impianti convenzionali nella parte anteriore, in basso parzialmente su impianti dentali. Nella parte superiore come vedi in questo grafico abbiamo posizionato due impianti ptericoidei, nella parte anteriore impianti convenzionali che avrebbero poi retto l'arcata completa, avvitata, provvisoria per dare il tempo di guarire all'osso e alle gengive. Abbiamo proceduto poi a eseguire un design, una preview grafica di quello che sarebbe stata la dentatura nuova che avremmo dovuto creare, progettare. Abbiamo capito fin da subito che avremmo dovuto creare dei denti più dominanti e più voluminosi nella parte superiore. Abbiamo stampato in plastica dei denti superiori di test provvisori, questi vanno buttati, sono solo dei test di plastica e li abbiamo successivamente riprodotti con lo zirconio. Quella che vedi qua è la linea superior, denti imperialistici, gengive realizzate col composito con delle caratteristiche di bioemulazione spettacolari e i denti in zirconio con effetto opalescenza e traslucenza che simulano dei denti mascolini all'interno della bocca del paziente. Abbiamo trovato il match perfetto anche con i denti inferiori, denti anteriori ti ricordo questi sono i denti del paziente, guarda come si combinano perfettamente col colore dell'arcata superiore. Abbiamo ridato l'occlusione, era una situazione molto difficile anche dal punto di vista protesico e abbiamo infine la copia di backup in cloud digitale dell'arcata del paziente. qualsiasi problema dovesse esserci in futuro abbiamo la possibilità di richiamare le forme dei denti artificiali che sono state create e riprodurre roboticamente in qualsiasi parte del mondo esattamente gli stessi denti che avevamo montato nella bocca del paziente. Questi denti sono la linea più avanzata al mondo che c'è creata partendo da delle forme di denti reali, denti che vengono scansionati e poi riprodotti roboticamente. Spero ti sia piaciuto questo caso, dai uno sguardo a tutti gli altri casi risolti dalla mia equipe.